Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Ecco come ha reagito l'ex fidanzato di Diletta Leotta, Gianni Aman alla notizia della gravidanza della conduttrice catanese Chissà quale tempesta emozionale starà vivendo il bell'attore turco dopo la notizia? Gianni Aman, l'ex fidanzato di Diletta Leotta, ecco come ha reagito dopo aver appreso della gravidanza, da poco confermata, della bella conduttrice italiana che in passato aveva fatto breccia nel cuore dell'attore turco Quella tra Diletta Leotta e Gianni Aman era stata una storia d'amore breve ma intensa La storia dei due ex piccioncini tra alti e bassi sembrava dovesse durare per sempre, in quanto i due sono arrivati ad un soffio dal matrimonio Poi le cose sono precipitate come tutti sanno bene e semplicemente l'amore è finito Yaman e Leotta hanno preso strade diverse.Sono state dette molte cose sulla relazione tra il bell'attore turco Gianni Aman e la conduttrice sportiva catanese Diletta Leotta dopo la fine della loro storia d'amore Giravano molte voci che davano addirittura la loro storia come fasulla, creata ad hoc dai loro agenti soltanto per dare visibilità mediatica ad entrambi Ovviamente queste teorie non furono mai confermate dai diretti interessati i quali semplicemente hanno chiuso un capitolo della loro vita. Attualmente i due, come sanno tutti hanno preso strade diverse Ken continua a recitare, passando da uno stato all'altro grazie ai suoi molteplici ruoli Pare essere ancora single, nonostante i pettegolezzi, poi smentiti dalle stesse, che lo vedevano fidanzato prima con Francesca Chilemi, sua partner in viola come Il mare e poi con Francesca Del Fa, protagonista dei Il Paradiso delle Signore Per quanto riguarda Diletta, da pochi giorni ha reso nota la sua gravidanza con il compagno, Loris Carius, conosciuto da circa un anno grazie ad un viaggio di studio della donna I due dopo quel momento non si sono più lasciati e tra qualche mese diventeranno genitori di una bella bambina La Leotta ha regalato ai suoi fan la prima foto di tutta la famigliola al completo durante la loro attuale vacanza a Dubai, postata sui social Come ha reagito Ken alla felicità di Diletta? Vista la storia d'amore passionale nata in passato tra Gianni Amane e Diletta Leotta, in molti si sono chiesti come possa aver reagito Ken alla notizia della gravidanza di Diletta C'è chi si aspettava perlomeno un messaggio di augurio, chi una qualunque scenata di gilosia o comunque una reazione dal bel tenebroso Siamo spiacenti di informarvi che ad oggi Gianni Amane non si è mostrato per niente interessato all'evento, non ha commentato o rilasciato nessuna dichiarazione in merito Semplicemente sembra che non gli importa più niente della sua ex ragazza Poi ovviamente se i due si sono sentiti in privato questo a noi non è dato saperlo, per quanto riguarda i social, Yaman risulta essere desapparecido dal fronte Leotta Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Ciao 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 Custom Grazie a tutti.